Siteco, da due giorni l'Abruzzo è zona arancione, il Viminale ha raccomandato maggiori controlli nelle città. Voi siete pronti ad utilizzare anche delle telecamere particolari per scovare degli assembramenti? Noi avevamo predisposto nelle zone più a rischio, cioè Piazza Muzzi e la nave di Cascella, delle telecamere intelligenti che segnalavano gli assembramenti e avvertivano la popolazione. Queste telecamere ci sono e le metteremo in funzione e così avvertiremo i cittadini che si trovano in determinate aree che c'è il rischio di assembramenti oppure che ci sono assembramenti e quindi è il caso di allontanarsi e di separarsi. Credo che sia molto importante per garantire tranquillità e sicurezza. Noi questa tranquillità l'abbiamo anche perché abbiamo realizzato un ospedale Covid che oggi serve tutto l'Abruzzo, quindi abbiamo una situazione meno impattante rispetto alle altre province, però non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo essere molto vigili. Oramai non vedo più quasi nessuno senza mascherina, c'è una responsabilizzazione in atto molto significativa, le persone sanno che devono stare attente e devono utilizzare quei meccanismi di protezione minimi ma che salvano dal contagio. Questa zona arancione ci sta danneggiando enormemente, Pescara è la città che soffre di più, perché Pescara è una città che vive di attrazione, vive di socializzazione, vive di persone, ci sono centinaia e centinaia di locali e quindi di imprese, di attività che oggi soffrono, dobbiamo tornare alla zona gialla velocemente e per fare questo dobbiamo responsabilizzarci tutti. Un'economia nella sicurezza e nella tranquillità di tutti, perché oggi la salute è fondamentale, ma la salute non può essere disgiunta dall'economia perché altrimenti le città muoiono.